Queste focaccine alla zucca conquisteranno i vostri cuori. Provare per credere! Realizzarle è facilissimo, vi basterà unire 200 g di farina, 100 g di zucca già cotta, 60 ml d'acqua, una busina di lievito, il sale e poi mescolare tutto fino ad ottenere un panetto, dividere in quattro parti e cuocere una volta stese in padella su entrambi i lati con coperchio.